Sono almeno sette i giocatori della Nissa risultati positivi al tampone e pertanto la partita di domenica sul campo del Monreale non potrà disputarsi. Un focolaio che potrebbe essere stato acceso durante il confronto di domenica scorsa a Campofranco con il Mazzara. Pare infatti che immediatamente dopo la partita alcuni giocatori della formazione mazzarese abbiano avuto dei problemi di positività. Il virus dopo un'incubazione di quattro giorni si è dunque manifestato nella squadra costringendo il tecnico Bognanni risultato negativo al tampone insieme ad altri componenti dello staff tecnico a sospendere immediatamente gli allenamenti. Il presidente Arialdo Gianmusso ha inviato una comunicazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio alla Lega Sicula per ottenere il rinvio scontato della partita. Squadra dunque decimata dal Covid e secondo quanto prevede il regolamento non può per motivi di sicurezza sanitaria scendere in campo. Si prevede tuttavia anche il rinvio di altre partite, quella ovviamente che riguarda il Mazzara ma anche il big match tra Canicatti e Mazzarese è stato già ufficialmente rinviato. Casi di positività infatti si sono registrati in entrambe le squadre.